Ciao a tutti e ciao Eugenio. Buongiorno. Oggi siamo qui per parlare insieme ad Eugenio del nuovo mondo delle partnership che sta approcciando la direzione dei servizi energetici di Enigas Luce. Eugenio ci racconti di cosa si tratta? Sì, Enigas Luce sta ampliando sempre di più gli orizzonti dei propri canali di vendita attraverso delle nuove partnership con attori di business diversi. La collaborazione che vi presento oggi è quella di Master Group, è una società concessionaria del brand Kena e Tiscali a livello nazionale, nonché concessionaria per quanto riguarda il sud Italia del brand di Sky. È una società molto attiva nel campo quindi la telefonia da circa 200.000 contratti l'anno. Da ottobre 2018 è entrata a far parte della squadra di Enigas e Luce per la vendita di switch in, quindi commodity gas ed energia elettrica. In pochi mesi abbiamo già affiliato 300 dealer con noi e molti di loro si sono offerti spontaneamente per affiliarsi con Enigas e Luce. Ovviamente il nostro obiettivo è attendere di affilare tutta la loro rete che consta di oltre 1800 punti vendita in Italia e questo è uno dei loro punti di forza in quanto sono localizzati capillarmente sul territorio e tutti quanti sono in punti vendita spesso diversi da quelli occupati attualmente dei nostri ESE. Eugenio, ci racconti le novità del modello? Dunque, le novità del modello. Il cliente che si rica in un negozio di telefonia affiliato Master Group può ricevere una proposizione commerciale di Enigas e Luce, quindi per la prima volta ci avviciniamo al mondo della telefonia con la nostra commodity. Il modello è semplice per il cliente che dovrà solitamente già con sé la documentazione necessaria per la pratica senza dover tornare di nuovo. La documentazione richiesta per i switch in telefonici è spesso quasi la stessa che serve per fare i switch in energetici, quindi documento, codice fiscale, copie delle bollette. Questo consente quindi di cogliere a caldo l'interesse del cliente. Bene, a questo punto siamo curiosi di sapere quali sono gli impegni e le aspettative per il futuro. Dunque, Master Group è il partner ideale per l'evoluzione del nostro business, quindi mantenere di base le acquisizioni della commodity gas e luce ed aprirsi a quanto di nuovo offre il futuro per automatizzare e rendere più facile ed efficiente il nostro sistema a casa, secondo il motto caro al nostro AD, peace of mind. Il loro modello operativo è snello, è molto attuale. Basta pensare che loro hanno sviluppato un software in grado di automatizzare online il caricamento di tutti i contratti. Hanno anche ottimizzato e automatizzato tutto il loro back office centralizzandolo. La loro organizzazione, quindi lato telefonia, evidenzia un'ottima capacità di gestione del back office a tutto vantaggio ovviamente delle performance di vendita. L'obiettivo per il 2019 è quello di raggiungere almeno i 3.000 switch per quanto arriva da questo partner, aumentare ovviamente il pacco di prodotti che loro offriranno, introducendo inizialmente anche la nostra offerta Hive, quindi i prodotti Hive, che ha già discorso un notevole gradimento da parte dei loro affiliati. L'obiettivo quindi è di convenzionare nel 2019 almeno 600 punti vendita, ovviamente tutti in aree territoriali diverse dai nostri IS. Vi aggiorneremo nei prossimi mesi sull'andamento di questa collaborazione.